buongiorno ragazzi e buon anno nuovo buon anno a tutti veramente a tutti com'è che si dice anno nuovo vita nuova e quest'anno per noi sarà veramente una vita nuova ci sono in previsione tante tantissime cose che cambieranno e questo video sarà un video semplicemente diciamo chiacchiericcio in cui effettivamente vi aggiorno su tutti i cambiamenti che noi avremo in questo mese di gennaio allora tutto nasce dal fatto che abbiamo abbiamo trovato un locale nuovo per il negozio il negozio che voi sapete essere attaccato alla mia casa praticamente un negozietto piccolo cartoleria è nata con 28 metri quadri di negozi arrivata a circa 40 con l'aggiunta che avevamo fatto abbiamo poi l'altro punto vendita ma falda gift anzi avevamo l'altro punto vendita ma falda gift che il 31 12 2018 ha chiuso ha chiuso perché abbiamo deciso che avendo trovato un locale nuovo molto più grande in cui poter riunire tutte e due i negozi la cosa più saggia e anche più sensata da fare era riunire tutto in un unico punto vendita ecco perché ma falda gift con tutti i suoi prodotti si trasferisce chiude battenti lì dov'era si trasferisce nella nella nuova attività insomma nella nuova destinazione che riunirà anche cartoleria ma falda il nuovo punto vendita non sarà più una cartoleria non sarà più solo una cartoleria infatti non sarà più né cartoleria ma falda né ma falda gift ma avrà solo un nome ma falda appunto si chiude quindi un'era per noi un'era di turni pensieri preoccupazioni e quant'altro che ci teneva sempre comunque con la testa e anche le mani impegnate per gestire i due punti vendita e quindi diciamo che è un grosso passo avanti anche se un pochino questa cosa ci era trista il fatto comunque di perdere uno dei due punti vendita di chiuderlo uno dei due punti vendita un po c'era trista perché è cresciuto un po con noi ma falda gift era aperto da otto anni praticamente rebecca c'è cresciuta lì dentro perché l'abbiamo aperto quando lei aveva pochi mesi insomma è stata è stata una bella esperienza finché finché ci ha dato le cose sperate adesso che in realtà ci siamo fatti un po di conti questi ultimi anni ci siamo resi conto che non non era più fattibile la cosa abbiamo preferito comunque tirare giù la serranda e rimboccarci le maniche ancora di più di quello che facciamo normalmente e mandare avanti un unico punto vendita che possa racchiudere tutto quindi come vi dicevo avremo un unico negozio bello grande in cui poter mettere tutto quanto poter esporre tutto molto bene speriamo di riuscire a farlo perché comunque io non sono una visual designer o come caspiterina si chiamano e quindi abbiamo già in mente come mettere le scaffalature come sistemare le cose eccetera eccetera io ho già tutto in mente ho anche già fatto un disegno sulla cartina insomma del locale però naturalmente poi quando si è lì effettivamente con le cose in mano ci si rende conto che magari questo non va bene lì quest'altro non va bene la ed è meglio cambiare le cose quindi comunque cercheremo di fare il del nostro meglio per esporre tutta la merce che noi abbiamo che effettivamente tanta 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 è molto variegata di vario genere comunque voi credo ormai chi mi segue da tanto lo sa noi vendiamo un po di tutto da una falda gift si vendeva il giocattolo come l'articolo da regalo come l'articolo per la casa come la bigiotteria la bio profumeria le candele profumate la cosmesi insomma di tutto e di più mentre in cartoleria abbiamo un setto oltre alla cartoleria abbiamo un settore parti molto molto forte che abbiamo deciso comunque di ampliare ancora di più praticamente se qua in cartoleria avevamo tre metri di di scafallatura dedicata proprio al party nel nuovo punto vendita ne avremo ben sei metri quindi praticamente stiamo raddoppiando lo spazio a disposizione proprio per incentivare ancora di più questo ramo che effettivamente ci dà volta soddisfazione anche perché come voi sapete io oltre che vendere le cose classiche del party io mi occupo anche di fare gli allestimenti mi occupo di bomboniere facciamo le bomboniere le consegniamo anche anche due giorni fa o mi sono occupata di un battesimo in cui ho fatto le bomboniere le ho consegnate gli ho montato anche l'allestimento tutto nella stessa mattina quindi senza voler sembrare una che si vanta per forza cosa che mi è stato detto è che sinceramente mi ha lasciato molto così perché non mi pare proprio di essere una persona che si vanti comunque lasciamo perdere meglio non aprire certe parentesi noi ci facciamo un così dalla mattina alla sera ci guadagniamo onestamente i nostri soldi siamo felici che tanti clienti ci vogliano bene ci seguano sempre e comunque siamo persone che si impegnano molto sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista umano e anche su questo non voglio non voglio sbilanciarmi non voglio dire nulla perché torno a ripetere che chi ci segue e chi ci conosce da diverso tempo sa di quello di cui sto parlando e e anche e non sa neanche di tutto quello che si fa perché comunque la mia vita non è davanti alla telecamera voi vedete qualche minuto della nostra vita una volta ogni tanto due volte alla settimana potete vedere 15 minuti 20 minuti della nostra vita magari una volta tutte in un giorno una volta suddivisi in giorni diversi quindi quello non è conoscere le persone che quello che noi siamo giornalmente quotidianamente i miei follower le persone che ci seguono non lo potranno mai conoscere così come io non penso di poter conoscere altri youtuber che seguo e che fanno video anche tutti i giorni ma che sinceramente non conosco di persona quindi io non so una volta spenta la videocamera come sono loro realmente tutto questo per dirvi non mi ricordo più che cosa scusate mi sono persa mi sono un tantino persa comunque noi coltiviamo i rapporti che abbiamo con i nostri clienti ecco perché i nostri clienti ci vogliono bene ci danno anche tante soddisfazioni certo non siamo non siamo universali non siamo non siamo nei presenti quindi qualcosa sicuramente anche noi sbaglieremo per fortuna siamo persone gentili ed educate i nostri clienti apprezzano molto e anche quelli che non sono nostri clienti apprezzano molto quindi lavorativamente parlando cambieranno tantissime cose avendo un unico punto vendita da gestire saremmo molto impegnati all'inizio per naturalmente a fare tutto il trasloco il trasferimento di scaffalature e materiale però poi una volta che avremmo sistemato è insomma ad obba ad obbato abbellito un po il tutto per dare quel tocco in più di ma falda insomma sarà un po più semplice gestirlo perché non avremo più il correcorri di porta questo qui manca questo la vai al container vai magazzino prendi questo portalo lì portano insomma stavamo impazzendo soprattutto gian giacomo che comunque doveva correre come un forsennato per portare la roba in via del mare soprattutto il dopo pranzo quando avrebbe potuto tranquillamente sedersi quella mezz'ora stare tranquillo invece doveva correre comunque sarà più facile appunto gestire un unico punto vendita sarà un po più difficile dal punto di vista logistico gestirlo con le bambine nel senso che fino ad ora abbiamo sempre avuto il negozio attaccato alla casa quindi se capitava che un cliente aveva necessità il negozio di una consulenza per delle bomboniere piuttosto che per delle partecipazioni o degli allestimenti io potevo tranquillamente spostarmi naturalmente il pomeriggio quando sono quando ero a casa con le bambine potevo stare a casa con le bambine se gian giacomo aveva bisogno mi chiamava io andavo in negozio e facevo quello che dovevo fare e poi tornavo in tutta tranquillità perché comunque le due cose sono sono attaccate ecco anche se mancavo dieci minuti le bambine stavano giocando non succedeva niente naturalmente questo non è più fattibile non sarà più fattibile quindi ci dovremmo un attimino organizzare credo che i primi mesi saranno un po di assestamento dovremmo comunque organizzarci con i turni eccetera eccetera insomma penso che comunque ce la faremo tranquillamente solo questione di abitudine è proprio una questione di abitudine perché lì naturalmente non possiamo rientrare a casa ogni dieci minuti a fare qualunque cosa se io ero in negozio e mi ricordavo di non aver attaccato dalla lavatrice ad esempio la mattina tornavo venivo qua un attimino attacco la lavatrice tornavo ecco questo non lo potrò più fare quindi ci dovremmo organizzare un pochino medio magari sotto questi aspetti però per il resto credo che la cosa non non potrà che migliorare sarà sicuramente un gran passo avanti sarà sicuramente un'evoluzione positiva per il negozio e anche per noi che comunque ne abbiamo bisogno la cosa più bella di tutte che mi entusiasma particolarmente è che finalmente potremo avere un bel soggiorno e sì perché quello che è stato cartoleria fino adesso in realtà diventerà il nostro soggiorno praticamente noi andremo a buttare via la parete divisoria che aspettate ve la faccio vedere ed eccola qua questa è la porta d'ingresso e questo praticamente è il muro che divide la nostra casa da cartoleria e questo muro andrà buttato giù naturalmente poi l'armadio lo sposteremo sulla parete opposta o ciao c'è giangiacomo spiaggiato e quindi dovremmo disporre anche diversamente un po le cose le cose all'interno della casa insomma ma di questo io sono felicissima non vedo l'ora non vedo assolutamente l'ora di poter fare questi lavoretti anche se naturalmente la priorità l'avrà il trasloco e la sistemazione del negozio perché da quello noi mangiamo quindi quello deve essere operative operativo nel più breve tempo possibile e poi naturalmente una volta che ci saremo sistemati che avremmo messo tutto a posto dobbiamo prendere il coraggio a quattro mani e fare poi questi lavori a casa naturalmente io di tutto vi documenterò sarà un gennaio molto travagliato molto speriamo di riuscire a fare tutto ecco entro gennaio perché comunque dobbiamo adesso domani domani che due inizieremo proprio il trasferimento di tutto il materiale da mafalda gift al nuovo punto vendita che naturalmente è chiuso insomma dobbiamo smontare gli scaffali eccetera eccetera nel frattempo cartoleria mafalda continuerà a lavorare quindi io sarò fissa in cartoleria e di là con altre persone che comunque ci aiuteranno si occuperà del trasferimento dopodiché dovremmo iniziare a traslocare anche le cose della di cartoleria quindi sarà un lavoro un lavoro lungo e doloroso speriamo che sia un lavoro anche certosino niente io vi dico già da adesso che spero di riuscire a fare i video normalmente come come li ho sempre fatti insomma due volte alla settimana però c'è sempre il punto interrogativo perché essendo comunque alle prese con un lavoro del genere capite bene che potrei non avere il tempo materiale o potrei non avere neanche la forza la sera di montare video e quindi già da adesso se eventualmente ne saltasse qualcuno vi chiedo perdono io cercherò in tutti i modi possibili immaginabili comunque di mandarli online sempre anche qualche video del trasloco in modo che che anche voi siate aggiornate sul sull'evoluzione della cosa e spero vi faccia piacere insomma noi siamo felicissimi di questa cosa veramente non vediamo l'ora di iniziare e domani mattina si inizia noi incrociamo le dita ragazzi anche voi incrociate le dita per noi e naturalmente poi faremo quando avremo sistemato tutto che sarà il momento di aprire faremo un inaugurazione avviseremo poi tutti anche su facebook insomma per per avere quante più persone che ci vogliono bene quanti più clienti possibili lì insieme a noi a festeggiare insomma questo questo grande traguardo bimbe ma voi siete felici che avremo il negozio nuovo ma chi se si è contenta che avremo un nuovo negozio sì ma come sarà come sarà il nuovo negozio amore quello per fare dinastica quello per fare dinastica amore matilda ancora non l'ha visto come non l'ho visto neanch'io dall'interno l'abbiamo visto solo da fuori no no matilda l'ha visto dentro l'ha visto un giorno che stavamo torrando dall'asilo amore siamo passati e allora vi portate a vederlo adesso settimana prossima adesso amore non abbiamo le chiavi domani o dopo settimana prossima appena ci consegnano le chiavi tu invece sei contento di avere il negozio nuovo dopo per i primi 20 giorni una tragedia lasciatevi piangere dai su su che tu sei baldo e giovine si si sono 30 anni avanti ieri poi prendo il magnesio il polase l'altro gilene va bene sarà meglio per una casa un soggiorno almeno più grande però questa è cartoleria questo è l'ingresso e come vedete anche se sono 40 metri quadri il negozio è stipato all'inverosimile adesso qua stavamo iniziando a smontare la roba di natale abbiamo messo un po' di giochi appesi però qua ho talmente poco spazio per farvi vedere il tutto che ok qua abbiamo scatole pronte adesso passiamo da quest'altra parte e vi faccio vedere cos'altro c'è qua qua lo stesso dobbiamo finire di appendere dei giochi altri scaffali con altri giocattoli altri giocattoli altri giocattoli e poi si entra dentro allora questo è l'ingresso qua abbiamo scusate ero troppo veloce qua abbiamo tutta la zona del party come avrete notato ci sono tanti buchi sia nei giochi che qua nelle decorazioni nei palloncini eccetera perché comunque abbiamo cercato di non ordinare ulteriori cose per non dover traslocare ulteriori cose perché già così ne abbiamo in abbondanza ok questo è il casino in cui noi viviamo da 25 anni questo è il retro questo è il banchetto dove noi facciamo i pacchetti regalo guardate il casino la carta regalo buste e bustine di qua abbiamo l'espositore con gli accessori per i capelli anche qua con buchi vari perché non abbiamo riassortito proprio per avere quanto meno merce possibile da traslocare di qua qui e vabbè dopo natale è passato un cataclisma quindi non fateci caso di qua abbiamo l'espositore di astra uno di quelli che andranno trasferiti nel nuovo punto vendita avremo tre espositori make up e uno di smalti che questo qua abbiamo le vetrine con la bigiotteria e le bomboniere che naturalmente andranno molto allargate perché qua ho giusto qualche campioncino ma non avete idea della roba che immagazzino stipata e anche il pavimento fa abbastanza schifo ma non fateci caso qua abbiamo bigiotteria accessori per capelli cose da cerimonie di qua abbiamo vabbè in questo momento ancora i botti oggi che sto girando ancora è 30 quindi non li abbiamo ancora venduti tutti quaderni e quadernini adesso vi faccio vedere da quest'altra parte abbiamo lo spazio di penarelli pastelli e colori vari che anche qua abbiamo lasciato abbastanza sguarnito proprio per non dover trasportare troppa roba sfusa e qua un altro spazio con giochi giochini cosa da colorare guardate gli zaini che ci sono lì sopra adesso giro tutto attorno così lo vedete cartelle che caos questa invece è la zona del bancone che in realtà è ormai diventato un banchetto da quante e piccolo perché c'è talmente tanta roba che veramente ho una manciata di monetine quindi vedete lo spazio del banco è veramente distretto piccolo piccolo questo negozio è stipato all'inverosimile guardate la dietro il banco guardate sopra anche qua penne quaderni album c'è di tutto e di più c'è talmente poco spazio per tutto che tutto è ammassato anche se i nostri clienti adorano questa cosa io non riesco a capire questo è il nostro caos quotidiano capite bene che dopo tanti anni uno arriva un punto in cui è saturo e non vede l'ora di veder sistemate tutte queste cose ecco perché il nuovo negozio ecco perché siamo alle prese con questa fatica fatica e faticaccia sarà una faticaccia ma ce la faremo bene ragazzi io spero di avervi trasmesso un po di entusiasmo per questo nuovo anno che sta iniziando naturalmente auguro a tutti un buonissimo anno che sia felice pieno di soddisfazioni per tutti 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 noi compresi quindi niente adesso vi mando un grande bacio ci vediamo al prossimo video ciao ciao